Ciao a tutti, io sono Rosy e oggi apriremo delle scatole di Evilove Vediamo, abbiamo Evilove Doghouse, quindi con la casa del cagnolino Lei che fa la babysitter, lei che porta a spasso i cani, quindi fa la dog sitter Lei che si prende cura di un altro bambino e lei su un delfino, al delfinaio Vediamo, quale possiamo aprire? Mi piace questa, apriamo prima questa, dai su Allora, vediamo Allora Ecco Evil, opla, il bimbo, la carrozzina, le devo ancora aprire qui Mi raccomando, non usate il taglierino da soli, sempre con la presenza di un adulto Allora, guardate, qui c'è il biberon del bambino che mettiamo nella pulla Piccolino, mettiamo a dormire C'è il biberon Questo è per la pappina Ci manca la forchetta, ecco il cucchiaio per dargli la pappina Ora glielo diamo C'è l'altro biberon, questo è per l'acqua e questo per il latte C'è un cubo C'è la pallina, c'è la forchettina Il triciclo La paperella Che cosa c'è? Il cucciotto Il suonaglino E un altro suonaglino Vediamo come le fa la babysitter Piccolino Hai fame? Ora ti diamo la pappa Guardate Che bellino Allora diamo il cucciotto così si adorbe Ehi, non lo vuole il cucciotto? Non lo vuole il cucciotto Vuole il suonaglino Guarda, guarda come è tranquillo Voglio un po' di compagnia Apriamo anche lui Allora Eccoci Sono usciti gli stessi giocattolini Quindi non sono stata a tirarne cuori tutti Iscita una bambina Lei una femminuzza E l'altra è il mio babysitter Questa qua però non la culla Guarda Piccolina Dormi Dormi Cosa c'è? Vuoi giocare col fratellino? Gocchiamo col fratellino Oh vediamo guardate quanto è premurosa ci 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 e ora viberon ma è giusto dare un po' di viberon andiamo peggolino fai ruttino non lo farò più abbiamo anche tantissimi altri giochi da aprire con le bambolotte però dovrete guardare il prossimo video mi raccomando seguiteci mettete like alla pagina e continuate a guardare i nostri video ciao bambine